Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Amma mia, l'ultima volta ci siamo lasciati dopo che sono successe un sacco di cose Quindi finalmente abbiamo incontrato di nuovo la nostra ragazza misteriosa E questa volta siamo, volenti o nolenti, costretti a viaggiare con lei dentro a queste misteriose rovine Quindi, dobbiamo esplorare le rovine, vediamo che succede Ok, il gate 1 è chiuso, quindi da là siamo venuti, quindi dobbiamo andare per forza qui Vinciamo male, vinciamo molto male, subito con le battaglie Uova Ma vedevo per forza Eh sì, mi pare che l'unica soluzione sia questa Ah, ho capito Ah, quanto sei brutto No, gli diamo energia Bene, scusa Non lo sapevo Ok Questo è chomp Chomp, chomp Arg Ok, ho capito Le uova verdi Quindi i mostri verdi Vanno attaccati Così Con il laser E quelli Blu con la pistola Vabbè Ok, ci siamo Scusate ma devo ancora un po' abituarmi Io Oramai sono abituato a Al dragone Quindi Cosa Ho passato un minuto Ok Vediamo se la tecnica funziona Dato che Il laser Becca Diciamo il laser Non puoi decidere il bersaglio del laser Ci conviene sempre colpire prima le uova blu con la pistola E poi E poi boom Sbloccando il gate numero 1 Ok Grazie Grazie per averlo sbloccato Io risalvo Salvare non ci fa mai male ragazzi Mettete che poi Non andiamo avanti Eh Aprendo il gate numero 1 Infanto io queste cose non le traduco quindi Elixir medis Flash chip Elixir minor E Allora io volevo solamente vedere che cosa ho equipaggiato Perché non me lo ricordo più Sniper Allora Heavy damage To any weak point Però forse mi conviene Lo sniper Cioè no Il mauler È più potente Forse mi conviene Per il momento Non lo so Vediamo come va Ah Gate numero 2 Chiuso Già ho capito L'antifona Di questo Dungeon Vabbè però perlomeno sembra abbastanza Regolare Cioè Facile da Da navigare Per il momento Non puoi andare a destra A sinistra Easy Easy peasy Allora dove andiamo A destra o a sinistra Andiamo a destra va Ah ah Oramai noi abbiamo la tecnica Non avete speranze Bello bello Mi piace così Great fight Peccato solo Che non guadagniamo Punti esperienza Qua perché Allora No aspettate Ma abbiamo superato qualcosa Qua Ah ah Beccato lo stavo per saltare Mamma mia Io ho come l'impressione Che seguendo questa strada Ritorniamo nel punto di prima Perché c'era un Doppio bivio Qui c'è una porta però Bene bene Ci piacciono Tutte queste cose Che abbiamo trovato Tra l'altro Non so voi Ma l'atmosfera di questo posto È per il momento Una delle più inquietanti Del gioco Quindi Ok Grazie Eh Madò In due Mutanti Dobbiamo colpire Prima lui Ciompiti Ciompiti Vediamo se riusciamo Ad ammazzarli Subito Entrambi Yes Excellent Mamma mia Stiamo andando Sempre meglio Mi vanto da solo Scusate Cioè Cioè Proprio Oddio Perché Lampeggia di rosso Ok Queste Dovrebbero Esatto Mamma mia Eh In realtà È una cosa Abbastanza semplice Da capire Ma io mi sento Così soddisfatto Di averlo capito Mamma mia Come se non Me l'avesse spiegato Poi Eh Hazel Cioè Me l'ha spiegato Letteralmente lei Ha detto Guarda Sei stupido Attaccali Con l'attacco giusto Perché se no Non muoiono Però Non lo so È soddisfacente Comunque Allora Eh Ah ma Era proprio Un dirubo Hai capito Edge Vabbè Se hai capito La prima cosa che ha detto Di questa ragazza Non è che ha detto Oddio C'è stata una ragazza In mezzo Alle rovine Cioè Come è sopravvissuta Sembra tipo Incastonata Nella pietra La prima cosa che ha detto È stata Wow Quanto è bella Quindi Diciamo Diciamo che è abbastanza Abbiamo capito Come la pensa Il nostro Edge Vabbè Come biasimarla Effettivamente È proprio carina Oddio Nel gioco Non è che sia Particolarmente carina E mancano i filmati Però se vedete Le illustrazioni Nelle illustrazioni È proprio carina È una fatta Proprio bella Infatti Guardate Io vi consiglio Di recuperarvi Qualche Diciamo Qualche illustrazione Di Panzer Dragoon Saga Perché ha un design Veramente stupendo Ed è uno dei motivi Per cui io vorrei Un remake A parte il fatto Che il gioco originale Costa tipo 1200 euro E io appunto Ho la copia giapponese Che adesso Pure quella Costa tanto Ma all'epoca L'ho pagata Tipo 30 euro E Aspettate Mi sto scordando Dov'è che volevo arrivare Vabbè Il senso è Che comunque sia Il character design E come viene rappresentato Nel gioco Non Sono due cose Completamente diverse Quindi Veramente Andate a vedere Perché c'è stato Un lavoro Nel design Dei personaggi E delle creature Che è stupendo Cioè non è per essere Insomma Non voglio essere negativo Per quanto riguarda Il gioco Perché Ve l'ho detto Io credo che sia Uno dei giochi Più belli Del Del saturn Però Cioè non posso neanche dire Che se lo rifacessero Cioè Sarebbe meglio Ecco Diciamo Non è invecchiato Benissimo A livello Di Cadiamo Cadiamo A livello Diciamo Grafico Rimane uno dei più Begli Uno dei più Begli esempi Di JRPG Della sua generazione Ma Oggi come oggi È difficile Convincere qualcuno A Come dire A giocarselo Sicuramente Proprio per via Di Di questa cosa Ok Qui non si passa Non so perché Forse è troppo ripida La salita Ah Pensavo che era morto E niente Ci becchiamo i cionpi Ai ai Vabbè ragazzi Io sono anche contento Perché La battaglia sarà Semplice E quindi magari per voi Un po' noiosa Ma A me sta bene Cioè Non devo preoccuparmi Di morire Per il momento Perché poi magari Però credo che Siano stati Un po' Cioè Abbiano voluto Lasciare un po' Di tranquillità Al giocatore Perché già Dover Combattere Senza il dragone È triste Quindi Dev'essero messo Anche delle battaglie Complesse Mamma mia No no davvero No davvero Speriamo che non ci siano Altre battaglie Proprio speriamolo Tantissimo Non voglio battaglie Complicate Voglio il mio dragone Allora Potrei andare a sinistra In realtà A sinistra Non ci sono stato Ma 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 non ho capito Se ci sono stato Qui o no Ma io sono venuto Da qui No Sono venuto Da quell'altro Di posto No scusate Devo fare un attimo Un viaggio di ricognizione Perché se no Qua mi perdo Cioè notate Non c'è neanche Il caricamento Qua Non c'è Il caricamento C'è Che roba Che roba Ah ma qui ci sono Già stato io Ci siamo già stati Ok no Allora non mi conviene Passare qua Allora vediamo Dove altro Non siamo stati Dritti Dritti per dritti Let's go Si va di nuovo Giù Evviva Mamma mia Altri alieni Ah Sì alieni Ciao Altri mostri Perché ho detto Alieni Ormai do per scontato Che dove ci sono Le carcasse Di mostri Mi attaccano Appunto Altri mostri Ma in realtà Non è così E E niente No No ho sbagliato strada Devo andare da un'altra parte Perché comunque sono ritornato Al punto di partenza Però il punto è che la strada Continua Quindi O ci devo ritornare col dragone Che il dragone vola O altrimenti non lo so Che devo fare Però c'è un'altra strada Dove non sono ancora passato Quindi intanto Proviamo ad andare Di là Vediamo Ad andare dritto Sempre dritto Sì Uhhh Ok 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 Sì Ok Cosa? Ah Allora lo conosce bene questo posto Che è sta roba Allora lo conosce Allora 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 Seguire, non ci sono più che ci sono. Cosa è? Guardate, non ci sono. 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 Oh, ottimo. Ma comunque ragazzi Cioè Adesso stiamo letteralmente Dimenticandoci di una cosa Fondamentale Cioè Ah Feeling Tank 1 and 2 Ok quindi dobbiamo tornare dove stavamo prima In poche parole Oddio Dov'è che dovrei passare prima però Vai Ah no intanto siamo sotto Quindi non possiamo passare proprio Dobbiamo andare al piano di sopra Giusto Sì mi ricordo bene No ma dicevo comunque Quindi abbiamo scoperto intanto che gli antichi erano umani Quindi non è che fossero una razza aliena chissà che E poi tra l'altro che non solo sono stati creati Cioè i dragoni e i mostri sono entrambi che sono stati creati dagli umani Quindi divinità un cacchio Cioè l'abbiamo creati noi Quindi Però ha detto un'altra cosa A Acer che mi ha un attimo destabilizzato Perché ha detto che i dragoni e i mostri Cioè seguono tutti una loro direttiva Che probabilmente Dico io gli è stata data dagli umani O comunque dai loro creatori E anche lei ha detto Anche io come loro Diciamo Ho il mio compito Il che mi fa pensare Che non sia umana Io sinceramente credevo che fosse un'antica Però a questo punto Può darsi che come sono state create In un laboratorio Ci ha detto proprio Parlato di genetica Così come i dragoni Magari anche lei È un umano Creato artificialmente O un robot Ma non credo Perché se si parla di genetica Credo che sia tipo un clone Magari Una cosa del genere Comunque sia Molto figo Mi sta piacendo Allora Vediamo che cosa ci riserva Adesso il bacino idrico Che dovrebbe essere Ehm Yes Pieno Hunting Shive Quindi una Falce da caccia Una falce da caccia Non lo vedo neanche Cioè non capisco neanche dov'è A proposito Dobbiamo No niente Non abbiamo trovato Nient'altro di interessante Vabbè Non ho capito A cosa serva Questa Questa falce Ma Ehm Sì Dobbiamo andare Per forza qui Perché da quello che ho capito Sono state riempite solo Le vasche 1 e 2 E la vasca 1 E quella in fondo Alla mappa Quindi l'altra Non è stata ancora riempita Oh yes No No di nuovo giù Aiuto Non possiamo più tornare su No perché questi Cosi bruttissimi Sempre Sempre Morite Grazie Per favore Eh 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 Diciamo che non è male Come idea Ok Ok E così Manchi solo tu Yes Direi che siamo andati alla grande Good fight Good fight Oh grazie Abbiamo una mappa Wow Che bella mappa Eeeh Un attimo L'uscita qual è? Ha detto questa Giusto Ma Chissà perché Un po' Me l'aspettavo Non lo so L'unica porta Vicina è questa Quindi Vediamo Oh Un salvataggio Grazie A noi I salvataggi Servono come il pane Quindi Eh Questo mi sa che è bloccato Gate 3 Closo È close Ragazzi Non è a porto È close E allora andiamo Dall'unica Altra direzione Lo sapevo che eri vivo T'ho visto Giuro Cioè il tema di questa puntata È chomp Vorrei dare un titolo serio All'episodio Perché comunque Stiamo facendo una cosa Abbastanza seria Ma sono proprio tentato Di chiamare l'episodio Chomp Chomp E per capirlo Dovete guardare Tutto l'episodio Ah Ah vabbè Basta Basta Sono troppo Sono troppo stanco Sono troppo vecchio Per fare sta cosa Mi sono spaventato Per un mostro Dietro a una parete In un gioco Per Sega Saturn Cioè Cioè Siamo proprio E non è un gioco horror Sono giunto A dei livelli Di stress Pazzeschi Aiuto Ok Gate 3 Sbloccato Non voglio neanche sapere Cos'è questa roba qui No No Va bene Saranno esperimenti falliti Non ci interessa Noi andiamo avanti Ciao Risalbiamo Perché Why not Why not Ok L'abbiamo aperto Guardate C'è un altro Mostro Io lo sento Eeeh 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 Vabbè Mi freghi una volta Diciamo che in questo episodio si avverte di più Questa sensazione Questa sensazione proprio di Di solitudine Proprio E' bello perché Riesce a creare un'atmosfera particolare Non è facile Poi ripeto Più è limitato l'hardware Più è difficile creare Veramente un'atmosfera Che Che ti faccia Cioè che ti trasmetta delle emozioni Ma ci sono riusciti proprio benissimo C'è proprio da dire Poi vabbè Qui è tutto un po' lineare Come vedete Cioè ci sono degli interruttori Ci sono tipo sempre due strade Non è che ci sono tipo 50 passaggi Quindi Ascensore Ci porterà Ah Pensavo che ci avrebbe portato su Ma a quanto pare Ascensore Non perderti Rido Rido moltissimo Non perderti a me Guarda che roba è Ma figurate se non me perdo Eh Caspita Cioè tu mi stai dicendo Che tutti questi oggetti Meritai così A caso Mi sembra strano O c'è una boss fight O non servono a niente Ah 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 Ok Mi sembra di capire Che dovrò tornarci Anche col dragone qua Eh vabbè Però questi li posso prendere Quindi Intanto Intanto È qualcosa Ok 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 Ah Ma Cioè Finisce qui Ah ho capito Probabilmente Torneremo con il dragone E potremo accedere Direttamente da qui Così non ci dobbiamo fare Tutto il giro del dungeon Spero Che sia questo il senso Yippie Ok Su o giù Su o giù Io andrei Su Yippie Di nuovo Yippie Basta È tutta una discesa Sto coso Madonna Cioè poi io Mi chiedo Come saliamo Cioè Non mica mi dovrò rifare Tutto il giro Per risalire Spero Spero di no Guardate quanto stiamo scendendo Cioè io dove sto finendo Al centro della terra Ragazzi Ragazzi diamoci una calmata Per favore Dove sono Dove sono Oddio Non ho letteralmente Non ho letteralmente idea Di dove sono E Questi non l'ho mai visti Non mi piace Questa cosa Non mi piace No ti prego No ti prego Pure No vabbè ma sono Terribili questi Hanno fatto secco Praticamente Cioè Che Che nemici del cavolo so Scusate 510 Cioè mi tolgono un sacco di vita Per fortuna C'è anche un sacco di Di pozioni Forse servivano a quello Vabbè Torniamo su va Meno male che abbiamo trovato subito L'ascensore E a questo punto Immagino che Potremo Prendere la nostra decision Cioè Esatto L'avevo capito Ok a posto E Bisogna scegliere dove andare Vabbè ragazzi Noi andiamo a tentativi Io ho visto una saletta Ehm Più avanti Adesso vediamo Se è giusta La mia intuizione Vedete Questa saletta In alto Vediamo se è lì Che si trova la chiave Così magari ci risparmiamo Un po' di viaggetti Ma può darsi anche Che l'hanno messa lì Apposta Quella stanza E poi non c'è niente L'hanno fatto solo perché Così uno crede che Ci sia la chiave Power chip Niente Ehm no Nope Uh sei tu la chiave Ci sto sperando tantissimo No Sei tu la chiave Eh Niente Si torna giù Per fortuna Ripeto Per fortuna C'ho tante medicine Ma pensate Se uno non c'ha le medicine E si ritrova quel nemico davanti Cioè come lo superi Non lo superi Perché non possiamo più usare Gli incantesimi del drago Io se ci fate caso Non ho usato Penso tipo mai Un oggetto Quasi mai Perché Vabbè Sono abituato così Dai giochi di ruolo Io solitamente uso sempre I Solitamente Uso sempre No Che pizza Uso sempre le magie Questo stavo cercando di dire Ma Absorbo la parte 2 Come vi faccio secchi a voi Come vi faccio secchi Single detonation Ma guarda Ho provato Così Per vedere che vi è fuori Beh Non li ho ammazzati Però Ci siamo Cioè Abbiamo preso 200 danni di meno Almeno Perché come vedete Ci danneggiano Anche prima di esplodere Bastardi Però Cioè Li abbiamo fatto saltare un turno Diciamo così Di questo mi fa piacere E allora Questo Ehm Mannaggia Sempre qua ci tocca passare Che pizza Ah qui non si passa proprio Allora Allora Adesso Sopra ci siamo stati Dobbiamo andare sotto E tentare Caspita ragazzi Comunque Pure io ho la fortuna Cioè Cioè Su 4 possibilità 2 Sto sbagliate 2 Intanto Non le ho azzeccate Adesso Ho il 50% Di possibilità Voglio vedere Se la becco Subito Questa Stacchiata Insomma Sopra mi ciò un po' aspettate aspettate mamma mia meno male che un po' di erisir ce l'abbiamo perché se no questo è l'episodio dei chomp continui che sono si cose bene allora io mi butterei dove ci stanno le carcasse perché secondo me ci vogliono dire ah non andate qui che ci sono le carcasse e ci sono i mostri ma in realtà dobbiamo andare lì ecco infatti comunque io credo di aver trovato un trucco qua se spariamo qui yes e cade anche il mostro ok eh beh funziona funziona ebbè stavolta è eccellente no great fight ma come siamo stati perfetti non ci hanno neanche colpito oh oh yes mi sembra proprio una chiave questa va ah ebbè stavolta è eccellente Non c'è il problema. E' anche se non mi ha fatto bene. C'è un problema di ripieno di amici. Adolio? Tu sei che stai con l'altro coloraggio? Si, è stato un po' di me, che è stato un po' di me. Beh, vabbè, credo che fosse scontato Io non ho mai creduto che Isel fosse cattiva Però qui ci sta proprio facendo vedere Che comunque siamo più simili di quanto Non possiamo pensare E poi come vedete È la prima a dire Sì, tranquillo Adesso non è che c'è bisogno di Di ammazzarmi immediatamente Intanto il dragone sta bene Stanno tutti bene Cerchiamo di Di fuggire da questo posto intanto Bene E Dobbiamo rifarci di nuovo la stessa strada Per fortuna mi ricordo dove siamo passati E credo che dove siamo passati Non ci fa di nuovo combattere contro il mostro Io sono andato sempre a sinistra Quindi il problema non si pone Ecco, infatti Meno male E... ah sì L'ascensore sta qua Quindi a questo punto dobbiamo tornare su Che bello è Questo è un episodio così rilassante Certo, mi fa vedere un po' di claustrofobia Perché Voglio dire Ci pensate bene Alla fine siamo Rinchiusi in un... Cioè In un impianto gigantesco di rovine Cioè Proprio labirintico Già quando ha detto Hazel Ah vabbè Guardate Tanto Stiamo in un labirinto Fai attenzione a non perderti Cioè A me Hai detto veramente L'unica cosa che non dovevi dire Non ti perdere E aspettate Ma sono curato? È abbastanza dai È abbastanza curato Adesso Se non incontriamo altri nemici Ma io già ho visto Che nel... Che nel... Nella cupola Ci sta... Ci stanno delle robe Quindi Non so se ci avete fatto caso Quando ci hanno fatto vedere la cupola C'era Eh intanto grazie Hazel Che c'è Credeva talmente tanto in noi Che ha detto Ma strano Che non siamo ancora morti Vabbè Passiamoci sopra Comunque dicevo Che Purtroppo Quando hanno inquadrato la cupola Io ho visto che c'era Un super insettone Quindi Mi pare strano Che ci sia un super insetto E poi rimane là Come se Non servisse a nulla No? Vediamo Magari mi sbaglio Magari lo combattiamo Se ritorniamo qui Per prendere gli altri oggetti No Invece no No Di nuovo sti cosi Basta Io riuso il bus chip Non mi frega niente Dove devi fare una finaccia Eh Ok Ma per un attimo pensavo che mi avessero colpito Il doppio Il doppio They can't reflect gunshots Ah e allora Reposition Quindi Tu chi sei? Sei Eh ma non gli fai niente Aspettate Forse li devo passare dietro No Non gli faccio assolutamente nulla A meno che Non mi devo far prendere Non capisco Ah Ah Ok Mi ho fatto alzare la coda? No Madonna Strafiero di me Perché l'ho capito da solo Geniale Geniale Che figata E Sbam Certo Poi a un certo punto Purtroppo muoiono Ma vabbè Ha ha Eh mi dispiace Oramai ho capito come funziona Grazie Versículo A Allora Mi luz A Mi Bomb drop No Bomb drop no Anche no Anche no No Peccato proprio Eh niente ragazzi Ci tocca aspettare Che lanci Qualche Qualche mostriciattolo Perché se no Non possiamo fare niente Questo vuole usare aim Ecco grazie Vediamo se riusciamo A eliminarlo Così ci metteremo Un secolo Io aspetterei Che ce ne tira fuori Un altro Niente Non ce la stiamo facendo Ma ti dirò Forse Forse Ce la facciamo Forse Ce la facciamo così Yes Molto bene Ecco lo scollo Perché effettivamente Lo è stata Ma vabbè Allora Questa è Grazie a tutti Va bene sbrigarsi ma onestamente io Prima di uscire salverei di nuovo Nel dubbio Bene ragazzi vediamo che cosa ci aspetta all'esterno Adesso che non abbiamo il dragone non so che cosa succederà Sai che la torre la vedremo col binocolo Grazie a tutti Grazie a tutti Ah ha rinunciato facilmente però Ti prego Hazel non ci tradira adesso 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 Nel dubbio Adesso 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 Grazie a tutti. To be continued, come migliori anime. Allora, disc 2 è stato completato. Press the start button. Ho un timore, ho un timore a fare questa cosa. Save game? No, aspetta. Save qui. Ok. Bene ragazzi, abbiamo fatto il cambio di disco, quindi scusate se c'è stato un attimo di pausa, ecco. Cioè un taglio è per quello. Io direi che adesso noi torniamo immediatamente al campo. Per fare l'unica cosa necessaria. Ovvero... Ma qui c'è il nostro amico. Beh, oddio, è un po' imbarazzante, ma io vorrei prima salvare. Beh, ragazzi, allora a questo punto credo che continueremo parlando con il famoso meccanico. Perché mi sembra che sia il meccanico, non credo che sia il nostro amico... Eh... L'altro nostro amico. E... E nulla. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi, commentate, eccetera. Noi petteremo il dragone e parleremo con il meccanico nel prossimo episodio. E... Niente, grazie per aver guardato. Ciao.